E Bitcoin ci delizia con un nuovo massimo relativo proprio nella giornata di oggi e si avvicina al livello di resistenza 27.000 dollari. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un recap di quello che sta succedendo sui mercati cripto in questa fase finale. Il Nasdaq 100 ha iniziato un nuovo ciclo trimestrale, anche lui, come abbiamo detto nel video di lunedì, ma alcune cripto non pompano alla grande come Bitcoin. Soprattutto il cambio, il rapporto Bitcoin-Ethereum è leggermente affaticato, diciamo così, che cosa sta succedendo, perché le altcoin non vanno su e quando potrebbe sguicciare questa cosa, in che periodo. Oggi facciamo quindi un video dedicato a tutte quelle che sono le cripto nella top 10. In sostanza andiamo a vedere Binance, Ethereum, Matic e anche la Solana per andare a vedere che cosa sta combinando e poi vi mostro il grafico Ethereum BTC perché è lui che farà la differenza nei prossimi mesi. Prima di andare avanti però è scontato il lancio del Bitcoin che ci sta portando un po' di fortuna proprio in questi periodi, anche se non ne azzecca uno nelle ultime settimane. Ma guardate un po' che è random però, ragazzi, oggi è uscita la B e quindi va bene così, insomma. Oggi è uscita questa e quindi up! Vediamo se sarà così dopo il weekend perché inizierà il weekend. Allora, iniziamo subito ragazzi con i grafici delle altcoin, delle cripto. Verifichiamo come mai non stanno pompando come Bitcoin e poi andiamo invece a ragionare proprio sul cambio ETH BTC. Però vi faccio vedere prima di tutto il grafico, la chart di Bitcoin. Bitcoin che sul minimo del 10 di marzo in maniera inaspettata inizia un nuovo ciclo trimestrale e in questa giornata daily, oggi, tenta nuovamente il breakout della fatidica livello di resistenza 25.026. C'era, ci aveva provato proprio nella giornata di martedì, in maniera, poi era tornato indietro, adesso un nuovo massimo che è stato fatto a 27.025 con i prezzi di Bitstamp, 27.000 circa. Vediamo se regge perché, come vi ho più volte detto, ragazzi, questi tipi di breakout dei livelli di resistenza rilevanti devono essere fatti assolutamente almeno in cross daily, ma per questo io attenderò comunque la fine della settimana, visto che già ci siamo sabato e domenica. Quindi vediamo, cruciamo le dita, vediamo se oggi riesce a fare esattamente questo livello di breakout. BNB che nella giornata di ieri ha sparato per un nuovo launchpad che è partito, diciamo, su Binance, ragazzi, e dove sta andando? Qual è l'analisi ciclica di BNB? Già vi dico che in questo video andremo a vedere delle aree temporali che sono un po' confluenti verso metà aprile, maggio, come area di topping, un po' già quello che vi avevo accennato. Alcune cripto sono messe benino, come per esempio BNB, Matic si sta indebolendo, già questo ve lo anticipo, secondo me ci sono delle cripto messe un po' meglio, poi ovviamente trend is your friend, quindi non si possono prevedere i futuri, però andiamo a vedere perché di queste cose. Iniziamo da BNB, allora BNB anche lei sul minimo del 10 di marzo inizia un nuovo ciclo trimestrale, attenzione perché il massimo dei prezzi proprio di Binance è di 3,37.8 della giornata del 5 di febbraio e in questa giornata è andato a fare una specie di doppio massimo, 3,36.7, quindi in teoria il massimo del precedente ciclo trimestrale ancora non è stato breccato a differenza di Bitcoin, vedete che ha breccato, sta breccando proprio in questa giornata in close ma aveva già tentato il breakout martedì del massimo dello scorso ciclo trimestrale, questo già ve la dice lunga sulla forza di Bitcoin che è un po' ritrovata, se vogliamo, dopo comunque un anno e mezzo di difficoltà che Bitcoin ha subito, quindi ritrovata forza per il re delle criptovalute che sarà trainante ancora una volta magari per la seconda parte dell'anno 2023, poi questo magari ne parleremo, seconda parte dell'anno che dovrebbe essere difficoltosa su Bitcoin perché andremo nella seconda parte, ma non è detto questo perché c'è troppo tempo, troppo tempo ancora da guardare, quindi dobbiamo ancora verificare cosa succede soprattutto vicino la struttura di maggio-giugno. Andiamo a vedere questa struttura, quindi inizia un nuovo trimestrale, tutto secondo le carte standard come Bitcoin, niente di anomalo, qui avremo probabilmente un ciclo da circa 30 giorni che dovremmo andare a valutare proprio su Binance e attenzione perché questo ciclo è iniziato da pochissimo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sta chiudendo, probabilmente chiuderà a breve un settimanale, un ciclo di appunto 8 giorni circa, poi dopodiché dovrebbe tentare il breakout. Attenzione perché Binance a differenza per esempio di Matic è vicino anche al livello di breakout di questa fase qui che è un livello molto rilevante in quanto è l'inizio di una nuova struttura ciclica e il massimo di questa fase, del ciclo cosiddetto semestrale. Su Binance il ciclo annuale è certamente iniziato a giugno, questo ne fa una cripto diversa da certi punti di vista rispetto a Bitcoin e lo stesso vedremo su Matic e in realtà anche su Ethereum questa cosa è così ragazzi, perciò andiamoli a tenere sott'occhio queste cripto perché in questa fase cambieranno atteggiamento rispetto a Bitcoin e ci daranno anche un'informazione, cioè che cosa potrebbe succedere a Bitcoin alla chiusura del suo ciclo annuale che a questo punto è scorrelato rispetto a queste cripto che sono state sensibilmente più forti di Bitcoin nell'anno, nella struttura del bear market e poi da giugno in poi. Quindi questo ciclo annuale teoricamente si va a chiudere a giugno del 2023. Allora, teoricamente perché qualcuno di voi ormai lo sa, i cicli annuali hanno comunque una variabilità, i cicli in generale hanno una variabilità temporale di circa il 20%, diviazione standard del 20%, un po' di meno magari su alcune cripto, questo ci porta all'idea di dire che è più o meno uno o due mesi, questo è concettualmente. Allora, sul meno avrei forti difficoltà a ragionare, però di solito questi tipi di cicli allungano molto perché in realtà il ciclo annuale di BNB al momento è un ciclo neutrale con un minimo iniziato qui che però sta facendo un cammello gigantesco come vedete, quindi non è né un ciclo a bull market né un ciclo a bear market, perciò è un ciclo neutrale anche se probabilmente tenterà di chiudere magari su un minimo superiore a quello di giugno e quindi sarà alla fine magari un ciclo rialzista. Ma al momento i livelli rilevanti per Binance, per BNB Coin sono questi qui ragazzi, cioè il massimo di questa struttura che è il massimo del presente ciclo trimestrale e poi il massimo di questa struttura che invece è quello non in shadow ma in questa fase qui, diciamo in close, proprio dell'intero ciclo annuale, questo è il massimo ciclo annuale, che corrisponde a 3,60. Poi abbiamo questo sdlancio fino a 400 che ovviamente anche lì insomma potrebbe essere eventualmente proprio un estensione. Allora io qui vi ho messo un'area temporale non di pricing, di possibile topping per quanto riguarda BNB, se lo fa, lo fa in questo trimestrale, altrimenti non c'è più trippa per gatti. Perché ragazzi? Perché se questo ciclo, questa struttura del ciclo annuale è corretta, è sempre proprio così perché qui ha fatto un semestrale da 180 giorni, qui probabilmente andrà a farne uno simile, se è corretta questa struttura, questa è la massima possibile fase temporale di estensione, ciò significa che da lì in poi probabilmente la cripto potrebbe andare poi a chiudere il ciclo annuale, quindi bisogna starsi attenti, mettere trailing stop. Attenzione, non vi ho detto di fare take profit, perché io sono un trend follower e ve lo continuo a ripetere, trend is your friend, a prescindere dall'analisi ciclica, dovete seguire il prezzo, se il prezzo continua a salire, continuate a stare sul mercato, però magari in quella fase lì un'area di trailing stop più stretto lo potrei anche accettare. A proposito ragazzi, fra un paio di settimane arriva una bomba di uso per tutto il canale, che si baserà sulla questione ciclica, già ve lo dico, ci sarà un webinar, non vi spoilerò niente, ma vi tengo un po' sotto, vi metto la pulce dell'orecchio diciamo in questo modo. Allora, questa è una zona che va da aprile a maggio, ed è una zona che teoricamente, se Binance riuscisse a superare intanto questo livello qui, ma poi i massimi dell'inizio del ciclo annuale, che sono a 360, potrebbe con tranquillità andare a spingere intorno ai 400, se non anche di più, fare il massimo prima di una struttura di ciclo, che probabilmente poi farebbe un pullback sui 360, insomma Binance Coin è messa bene, è una cripto messa molto bene, anche meglio di Matic, che andiamo a vedere subito, ovviamente qual è la struttura ribassista, giusto per intenderci così, andiamo a ragionare anche sulle strutture ribassiste, fin tanto che regge questo minimo, il 260 dell'altro giorno, questo trend non può invertire. ora una struttura ribassista dovrebbe indicare, che questo ciclo mensile si indebolisce, non riusciamo a superare quei massimi, iniziamo a fare una cosa del genere, dopodiché nel successivo mensile brecchiamo questo livello, a quel punto tutta questa analisi, è completamente annullata. Già mi aspetto che se già non riesce, in questo ciclo mensile, a distruggere il 3,40 e 3,60, magari non superi 3,60, ma se ci avvicina mi sta bene, soprattutto non fa una chiusura profonda di questo mensile, allora va bene, ma se dovesse fare una struttura di debolezza, con una chiusura molto profonda, inizio a tentennare questo scenario di possibile fase di up in questa zona temporale, perciò lì mi aspetterei un switch da Binance. Andiamo a vedere Madic, che ci perderemo meno tempo, perché semplicemente è molto simile, a BNB con una struttura diversa, perché Madic ha un ciclo annuale iniziato anche lui a giugno, forte, molto forte, però ha fatto un massimo in questa fase. Ora ragazzi, nulla vieta che questo massimo di Madic riesca a resistere, perché Madic è entrata in pratica nel suo ultimo ciclo trimestrale, quello dell'annuale. Bisogna stare molto attenti, perché se è una struttura ciclica annuale regolare, allora ha fatto il suo ping pong in questa zona, e questo ha tante carte in regola, per essere il massimo di periodo proprio di Madic, prima della chiusura, magari del ciclo annuale. Madic ha tantissime carte in regola ragazzi. Ora, vi ripeto, non si può prevedere il futuro, però da un punto di vista logico, se dovessi sguicciare, terrei sotto controllo l'idea, magari in una prossima fase, di poter provare più Binance come trading, non come position, non come holding, ma come trading per uno o due mesi, una trentina di giorni. Perché? Perché Matic è un po' già in advance, e mentre Binance potrebbe riuscire, in quanto il massimo l'ha fatto in questo ciclo, non in questo, su Matic è un po' complicato. Quindi sicuramente andare a monitorare quelli che sono i cicli mensili, però andate a valutare anche che questa discesa è stata importante, come vedete anche il rimbalzo è lontano, molto lontano dai massimi, a differenza per esempio di Bitcoin, che vi ho fatto vedere lì a già rotti, in questo momento Matic è al 25% di distanza dai massimi, a differenza dell'ultimo ciclo trimestrale, a differenza di Bitcoin, che guardate qui che cosa sta facendo. Perché? Perché semplicemente ragazzi, è una cripto iperforte, e sui massimi storici in pratica in questa zona, quasi massimi storici, che sono ovviamente sì, sono molto più alti i massimi storici ragazzi, perché il cripto fa una ampia volatilità, però se voi ragionate in versione di lungo periodo, vedete che sta oscillando in questa struttura, quindi insomma era partita da qui nel 2019, fatevi un po' il conto. Quindi Matic un po' da attenzionare, secondo me un poco poco più debole rispetto a BNB, andiamo a vedere Ethereum e poi Solana, e poi vi faccio vedere il super grafico, quello più importante di tutti, che è essenzialmente Bitcoin e Ethereum. Allora Ethereum ha una struttura particolare ragazzi, inutile che ci giriamo intorno, è una via di mezzo fra Binance e Matic, perché ha un massimo nella prima parte del ciclo annuale, molto pericoloso, ve lo garantisco, perché la configurazione di un ciclo annuale iniziato qui, non si sa ancora se effettivamente potremmo andare a considerare questa come una specie di semestrale lingua di Bayer, è possibile su Ethereum, perché Ethereum potrebbe essere estremamente correlato a Bitcoin, però su Binance e su Matic questa cosa è sicuramente no. Su Ethereum un po' c'è, ma è una forzatura, quindi io al momento valuto il ciclo annuale iniziato a giugno. Se così fosse ragazzi, o Ethereum in questo trimestrale va a breccare questo massimo e poi chiude l'annuale, oppure non ce la fa, e se non ce la fa vuol dire che fa il massimo in questo annuale ed è pericoloso, è pericoloso perché potremmo assistere a una cosetta di questo tipo, cioè a una fase di estrema debolezza per tanto tempo rispetto alle altre cripto. Mi stona un po', ve lo dico francamente, perché è una cripto che a differenza di BNB o di Matic sta lavorando in maniera un po' più debole, considerando che parliamo della regina delle cripto e considerando anche che solo un'eventuale notizia, magari un po' di regolamentazione consistente, spingerebbe Ethereum a crashare un po' di più, sicuramente una regolamentazione che colpisca l'HR20, quindi i progetti come Ethereum, il concetto è quello della famosa security, che sta tirando su la SEC, colpirebbe in ugual misura, se non peggio, anche Matic e BNB, quindi a quel punto, ok, mi suona strano, mi suona un po' strano il fatto che quelle cripto possano seguire un trend diverso. Perciò al momento, quello che farei ragazzi è monitorare la tenuta di questo livello, che sono i 1.800, perché Ethereum è riuscita ad avvicinarsi, è anche superato in shadow il massimo del precedente ciclo trimestrale, però è ancora debole, perché questo livello, questo livello è molto forte, non riesce, vedete, a superare questa fase. Superata questa zona, che sono i 1.760, insomma i 1.800 dollari, poi ha la pista aperta per raggiungere immediatamente i 2.000, quindi potrebbe accorciare le distanze proprio in questa zona, ma se Ethereum fa una cosa del genere, probabilmente Bitcoin supera i 28.000 dollari e va verso i 32, questo ne parliamo tra pochissimo. Detto questo ragazzi, quindi il livello da monitorare su Ethereum è questo qui, deve breccarlo a momenti, settimana prossima, e anche lì se fa un ciclo annuale che tendenzialmente mira ad essere rialzista, deve breccare questo livello o fare un doppio massimo, perciò qui potrebbe arrivarci sempre verso aprile-maggio. Andiamo a vedere Solana e poi vi faccio vedere il mio super grafico, che è quello che vi piace più di tutti, Solana ovviamente in iper difficoltà, non si capisce la struttura ciclica di Solana per via delle manipolazioni che ha subito dovute alla questione del fallimento di FTX, perciò dobbiamo andare a considerare dicembre 2022 come un minimo ciclico di qualcosa di importante. Teoricamente anche qui dovremmo aver chiuso un ciclo annuale a giugno, se Solana ha chiuso il ciclo annuale a giugno, ragazzi, questa va in chiusura del ciclo annuale a giugno-luio, e vi parlo chiaro, cioè se qui non è stato troncato un ciclo superiore e non ce ne siamo accorti, perché qui è avvenuta comunque una super manipolazione, ci può stare tranquillamente che Solana abbia fatto una cosa unica, perché ovviamente è una cripto, intanto non è una stocks, non ha storico di anni e anni e anni, è ipermanipolata in questo caso, perché insomma ha subito la questione di FTX, quindi ci può stare, ma se qualora questa struttura ciclica fosse confermata come un vero ciclo annuale iniziato qui, e quindi qui non è stata fatta nessuna eccezione, ma siamo nel ciclo annuale precedente, Solana farà un nuovo minimo entro luglio. Questo è quello che ci dice l'analisi ciclica. Ora, per una cosa del genere, mi aspetto un disastro, ovviamente, che derivi da tante considerazioni, quindi due sono, le ipotesi sempre due, ovviamente i scenari sono ragazzi, però in questo caso siamo in uno scenario un po' più consistente, perché qui non sono probabilità. Allora, o l'annuale di Solana è stato chiuso a dicembre con un'anomalia, e ci può stare, e quindi è iniziato a dicembre, oppure Solana andrà a fare un nuovo minimo entro la chiusura di questo ciclo annuale. E questo è molto significativo, perché ragazzi? Perché c'è un livello di prezzo che potete assolutamente tenere sotto controllo, ed è questo qui, perché il livello di prezzo del ciclo trimestrale attuale, quello iniziato il 10, è molto rilevante, in quanto se questo livello di prezzo non regge, attenzione, qui dobbiamo dargli un po' di giorni, dobbiamo superare comunque la fine del mese di marzo, però se questo livello non regge ad aprile, per dire, e questo trend incomincia ad ammorbidirsi e va a fare una chiusura di un ciclo mensile qui inferiore, e lì ragazzi starei molto attento, perché poi l'eventuale rimbalzo potrebbe essere il must short di questa cripto, che poi a questo punto farebbe una cosa del genere. Quindi Solana, in questa fase, è assolutamente da tradare, non da oldare, perché è pericolosissima, in questa fase, se volete oldarla va bene, ma si rischiate che sotto quel livello di pricing si va a dimezzare praticamente tutto, perché la ciclica non è favorevole a questo titolo, a questa cripto. L'unica possibilità che invece vada a continuare un trend rialzista è che su questo minimo sia stato chiuso il vero annuale, non qui, e a questo punto è un po' solitaria, non del tutto solitaria, perché ci sono altre cripto come DwaydayX, Phantom, che hanno chiuso comunque a dicembre, quindi non possiamo buttare diciamo questa ipotesi, però sicuramente preferirei usare questa criptovaluta visto anche l'ampia volatilità come trading di natura mensile, cioè più dedicato a seguire il trend di natura mensile, quindi posizioniamoci sul trend al rialzo, ma se inverte poi scappate, gambe all'aria. Detto questo, in questa fase ragazzi, vi ripeto, c'è un concetto molto importante, le analisi tecniche e l'analisi ciclica a prescindere l'analisi fondamentale di un progetto e tiene conto del concetto di concetti di pricing, il prezzo sconta tutto, perciò se il prezzo inizia a scendere c'è qualcosa che non va, al di là del fatto se vi piace o meno un progetto, perché il progetto può essere il più bello della storia, ma ve lo ripeto, ve lo ribadisco, sono da quattro anni che lo dico, non tutte le tecnologie che sono state le migliori del mondo, sono state poi effettivamente assorbite dalla umanità e utilizzate, alcune sono fallite miserabilmente, nonstante avessero il top del top della tecnologia, quindi i progetti valgono tanto e non quanto, se il mercato e il trend è contrarian, non va bene stare su quei progetti, soprattutto se il lungo periodo è stato quello che è stato in questo frangente, ci sono investimenti più sicuri che si possono fare, nulla vieta però a questa cripto appunto di aver chiuso qui l'annuale con un'anomalia tecnica dovuta all'affallimento di FTX e che quindi in questo caso si può valutare ovviamente, però nulla ragazzi, basta semplicemente attendere, per esempio magari già il superamento di 23, invece di entrare sui dip, entrate sui break e attendete, perché poi dopo i 23 ci può essere un 27, solo il superamento dei 27-30 sancisce un nuovo annuale da qui, fino a quando questo non viene toccato, questa zona, c'è il rischio ancora di fare un nuovo minimo, quindi solo da qui in poi un breakout di questo livello sancisce un nuovo possibile ciclo annuale da questa zona. Andiamo a vedere infine l'ultimo bellissimo grafico che è un BTC, ma ne parliamo approfonditamente lunedì, ve lo accenno oggi, però Solana è molto importante perché quello che vi ho detto ragazzi può essere strasfruttato per il trading è veramente in maniera molto interessante. Allora vi faccio vedere quello che è il grafico secondo me più importante dei prossimi tre mesi, tenetelo a mente, il grafico Ethereum BTC, Ethereum BTC sancisce secondo me l'equilibrio del mondo cripto con il mondo Bitcoin e in questo momento Ethereum BTC è nella sua fase calante che non si vede nemmeno perché Ethereum è stato talmente forte che la sua fase calante contro Bitcoin non si è vista perché? Perché siamo nella fase di chiusura del ciclo quadriennale di Ethereum Bitcoin, l'ultimo ciclo quadriennale ve l'avevo già accenato ha fatto questo in questo caso il ciclo quadriennale sta performando proprio in maniera lineare questo vi dice che Ethereum nonostante questa sua fase magari un po' più deboli rispetto a Bitcoin è stato fortissimo rispetto agli altri anni perché si è mantenuto molto di più rispetto a questa zona qui però che ha fatto un boom e non esisteva praticamente niente quindi irrilevante però questa zona qui guardate che ribasso molto consistente in questa fase invece abbiamo un ribasso dai massimi di questo periodo di questa nuova fase ciclica praticamente quasi irrilevante allora questa zona però comunque andrà a fare la sua fase di minimo e quindi bisogna andarla a monitorare qui probabilmente andiamo a chiudere una struttura un po' anomala che potrebbe essere chiusa tra giugno e questa zona che è se non erro novembre e ottobre quindi tra fine maggio vedete 22 maggio e il 23 ottobre quindi insomma fine maggio ottobre e questa è una zona che ethereum bitcoin potrebbe fare una cosa del genere ragazzi vi ho messo qui quelli che sono dei livelli di pricing questo ovviamente è sbagliato perché questo qui è 043 ok lo riscrivo ok ci siamo e questi livelli sono target price del movimento ribassista il livello di 0.05 è riuscito a tenersi in close settimanale proprio sul minimo di maggio giugno dello scorso anno vedete giugno 2022 qui insomma tra un po' andremo a fare probabilmente una cosa del genere ho idea che questo minimo non regga vi dico la verità e che la possibilità è che in un bitcoin si vada a configurare con un minimo tra 0.043 e 0.055 al di sotto il 0.043 c'è 0.034 quindi un livello un po' inferiore cosa significa? Significa che da un punto di vista tecnico in questo caso ancora siamo in una barra ma proprio nella giornata di oggi vedete sta rompendo poi la vediamo meglio lunedì questa cosa in questo caso forse bitcoin ha ancora l'infa da dare per aprile maggio e un po' di giugno rispetto alle altre cripto ed è tutto molto coerente alle configurazioni di cicli annuali di bitcoin iniziato con ritardo rispetto a quello di ethereum per bitcoin iniziato a novembre ethereum a giugno quindi ci sta che ethereum vada in close del ciclo annuale mentre bitcoin continua la sua fase di up o comunque di resistenza mentre le altre cripto vanno down a questo punto tutto rimandato per le cripto dopo la chiusura dei cicli annuali che vi ho fatto vedere dopo maggio giugno perché in realtà in realtà il vero vero nocciolo della questione è proprio giugno perché se giugno riusciamo a stare bene può essere che le cripto possano iniziare in effetti una nuova fase di bull nei confronti anche di bitcoin e sarà interessantissimo vedere dove siamo arrivati e che cosa potrebbe succedere appunto nella ultima fase dell'anno per oggi è tutto ragazzi ciao ciao